Penso sia inutile commentare da un punto di vista tecnico quello che abbiamo visto questa sera, una delle umiliazioni più pesanti che ha subito la Roma, ne avevamo già subito un'altra a Firenze che fu un 7-1, stasera ci siamo limitati al 5-1 con un espulso, ma certamente una delle pagine più brutte della storia della società e certamente di questa società o di quello che resta di questa società. Una cosa comunque va detta, Juric se ne deve andare, Juric deve andare via perché non può certamente gestire lui questa squadra, dopo 15 minuti con la Roma sotto i due gol avevo quasi netta la sensazione di una squadra che volesse proprio giocare, non dico contro di lui, ma insomma senza il benché minimo impegno. Devo dire che Juric aveva chiesto nel prepartito in settimana di voler vedere 11 animali, 11 bestie in campo, effettivamente li ha visti, solo che non erano le bestie che magari cercava lui o sperava di vedere lui, ha visto dei conigli. Dei conigli in campo ha tolto qualche eccezione, ha tolto di bala, ha tolto naturalmente il solito svilare in porta che anche questa sera ha limitato pesantemente il passivo, voleva neanche Dobic perché comunque più di quello non poteva fare in questa situazione e per il resto è stata una scena vergognosa. Juric ci ha messo del suo, ma Juric questo è, non è che ci potevamo aspettare chissà che cosa, ma questa è stata la grande genialità di questa dirigenza ormai assente ed è la grande delusione, a meno per quello che mi riguarda, perché ci avevo sperato dopo che ci avevano in qualche modo salvato dal fallimento della gestione pallotta, quasi dai libri in tribunale e adesso invece ci stanno portando e stanno dimostrando con la loro assenza che proprio non gliene frega assolutamente nulla, questa gente che non ha empatia, che non ha cuore, che non ha sentimento, non gliene frega niente, hanno un registratore di cassa al posto del cuore e questo noi a Roma non lo possiamo certamente sopportare, anche se queste sembrano un po' le gestioni delle società di calcio nell'era moderna, nell'era che stiamo vivendo e questo è quello che fa certamente certamente più male, ma tutto quanto appunto è figlio di questo tipo di mala gestione della Roma, perché non c'è nessuna a Trigoria che riesca a dare comunque un minimo di impronta, un minimo di segnale, un indirizzo ben preciso, cioè soltanto chi solfì, ma insomma per quello che conta e poi al di là di tutto noi possiamo pensare o credere che l'origine di tutti i mali era la lina Solugu, quella che Mourinho chiamava la giraffa, perché certamente non è che lei poteva avere potere assoluto di decidere su qualunque cosa, la decisione finale veniva sempre presa dalla famiglia, dalla famiglia Fredkin, ora vediamo insomma, io domani controllerò i piani di volo insomma di vari aerei, vediamo se Top Gun domani si presenta, perché se si presenta viene qui per caccia a Juric per far venire non so chi, abbiamo visto i ballardini in panchina, vabbè lasciamo stare, ma in questo momento secondo me c'è una sola persona che può gestire questa situazione, non è De Rossi nel senso spero che non abbiano la faccia tosta di richiamarlo, visto il considerato che col comunicato che hanno fatto quando l'hanno mandato via, hanno detto che bisognava prendere comunque, era giusto mandarlo via perché dovevano prendere comunque un allenatore in grado di farci vincere dopo quattro partite, forse sa per quale motivo gli hanno fatto tre anni di contratto, oggi c'è solo uno che può gestire questa situazione, è Claudio Ranieri, e Claudio Ranieri penso che comunque alla Roma non potrà mai dire di no, Claudio Ranieri è l'unico che ci può portare e traghettare fino alla fine dell'anno, fino alla fine della stagione, per cercare di riparare un po' una situazione totalmente disastrosa alla deriva e allo sbando, grazie, ripeto, a questa grande professionalità, a questo grande modo di gestire comunque la società di calcio da parte di questi imprenditori americani. Saranno i numeri uno al mondo per vendere le macchine, per fare i film, tra l'altro a proposito di film e magari da quello che è successo questa sera e da questo tipo di gestione quest'anno potranno trarre spunto per fare un film, magari lo porteranno al Festival di Canno o da qualche parte, poi magari io gli dico soltanto di fare un film come sono loro, un film muto, perché tanto loro sono quelli che non parlano mai, quindi magari potrebbero fare loro da produttori un film muto, visto che è considerato che la Roma l'hanno gestita da muti, senza mai comunque proferire parola, senza mai farsi sentire o farsi vedere. Chi si fa sentire e chi si fa vedere sono le persone, sono la gente, sono i tifosi che vanno allo stadio, sono i tifosi che pagano, sono quelli che sono andati a Firenze, sono quelli che vanno comunque da tutte quante le parti e che adesso ne hanno veramente piene le scatole. Questo modo cialtronesco comunque di gestire le cose non è più accettabile. Non è più accettabile, Juric deve andare via secondo me stasera, deve andare via stasera, chiamate Ranieri, fatelo venire qui intanto e portatelo avanti fino alla fine della stagione. Poi speriamo, vediamo un po'. E comunque Ranieri, un altro allenatore, o meno allenatore adesso, ma Ranieri tenetelo comunque sempre in società, perché di quelle persone lì si ha bisogno, visto che non c'è nessuno che sappia di Roma, nessuno che conosca bene Roma, nessuno che conosca quello che vuol dire essere in quel caso i presidenti della Roma o comunque allenatori della Roma. Ecco, tenete un uomo come Claudio Ranieri che vive di romanità e di romanismo in assoluto, insomma, quello che manca totalmente a voi che siete degli insensibili e anche degli incapaci purtroppo a gestire una società di calcio. Spero che veramente possiate avere anche voi il tempo limitato e ci possiate lasciare, non so chi ha in mano a chi, ma tanto purtroppo siamo sempre destinati ad avere gestioni straniere, ma fondamentalmente speriamo e spero veramente che ci siano persone, non solo italiane, ma fondamentalmente romane all'interno della Roma. Roma non è comunque come le altre città, la Roma non è come tutte le altre squadre e società da poter gestire. Un abbraccio a tutti quanti voi e sempre, sempre, sempre. Forza Roma! Forza Roma! Forza Roma!